non c'è un gironi ma viva si inizia l'ascesa, speriamo di arrivare in cima altro che sufficiente a me è protetta sia dal sole che dal vento a me è protetta sia dal sole qui quasi sembra spianare a me è protetta sia dal sole che dal vento a me è protetta sia dal sole che dal vento la cima si avvicina a me è protetta sia dal vento adesso via in discesa a me è protetta sia dal vento in Romagna un giretto sulle strade di Marco Bantani è immancabile in più il Monte Feltro ha il suo fascino linea di partenza in via Dante e inizia a pedalare verso l'entroterra con il mare che si allontana alle spalle dopo una quarantina di chilometri giusti giusti per affaticare la gamba attacca la salita al mitologico cippo l'andatura è più che turistica lo sguardo corre veloce sugli scorci che si aprono nei tornanti e il respiro pesante si sente tutto arrivato al cippo foto ricordo e riparto alla volta del passo altra bella sofferenza ripagata dalla soddisfazione di essere in vetta immancabile foto e finalmente inizia la strada in discesa rientro soddisfatto in via Dante ecco già in testa l'idea di rifarla l'anno prossimo alla prossima